Innanzitutto un ringraziamento a tutti gli elettori, a tutta la squadra che è veramente stata una squadra innovativa, una squadra che ha dato veramente una risposta nuova e generosa a tutti i cittadini di Sagrado che hanno dato fiducia e hanno riconosciuto il lavoro svolto non solo da me ma da tutta la squadra. Punti forti del vostro programma, quello che intendete fare nei prossimi cinque anni del vostro mandato? Il programma ha diverse cose di una certa ambizione, ci sono alcuni argomenti che abbiamo sottolineato in tutta la campagna che vanno sicuramente da quello che è un grosso problema, la nostra viabilità che anche quest'oggi nonostante appunto fossimo qui ad aspettare i risultati è stata ingorgata da un semplice tamponamento, da un semplice incidente e quindi bisogna che ragioniamo con anche i vertici delle altre istituzioni. Perché si possa trovare delle soluzioni a questa viabilità. Inoltre abbiamo un patrimonio sicuramente importante che è quello dell'Isonzo, del Carso e di tutta la nostra realtà che va assolutamente valorizzato e portato alla fruizione di più persone possibili e soprattutto dei turisti che in questi anni stanno riempendo e ripopolando anche le nostre zone.